Per la prima volta nella sua storia il premio giornalistico è giornalismo, è stato assegnato a un pontetice. Quest'anno va a Papa Francesco per il suo messaggio di dialogo e pace. L'onore d'efficienza è stata consegnata al Santo Padre durante un incontro che si è svolto all'interno del Palazzo Apostolico Vaticano. Nella nota degli organizzatori si legge, il riconoscimento a Papa Francesco si inquadra perfettamente in quello che era l'obiettivo che si erano posti Montanelli, Biaggi, Bocca e Giorgio Aneri quando fondarono il premio nel lontano 1995. Aiutare il giornalismo ad essere più consapevole del suo ruolo di libera espressione e di contributo alla costruzione della giustizia attraverso il servizio della verità. Papa Francesco interpreterà unica voce il coraggio di usare il dialogo per dire parole di pace.